bella ragazzoni siamo qui a prenderci a pugni vai prova vai vai dai gnauro dai gnauro guarda guarda ti aspetto qua da uscire le buddella dal naso ma tu con le armi sei un pezzo di merda video testimone sei un pezzo di merda chi è che urla ho sentito anche il coltello la fai facile ti sembri mike tijon oh ma non mori più dove sei ma non dove cazzo adesso ma non morivi più aspetta un secondo come è fatto a cadere ma come è fatto a cadere dove sei sono in burundi aspetta cos'è quello ah ma sono giocattoli ma sei uno gemman tu con le armi la fai facile brutto zembedeo di merda non ce le ho neanche io ah no perché non carica oh carica oh col tuo cecchino di merda vai via guardalo guardalo sembri il steward little che tipo no io non ho più munizioni giuro dai non farlo gemman non ho più munizioni dove dai ora rega avete visto che è uno gemman dove non farà pugni ma facciamo armi quindi quando gli dicevo aspetta colpirmi tu cosa cazzo cg sei un video dai facciamo l'ultimo incontro vero di box vai vieni qua facciamo lìู่ qui uno le io torna indietro Che tipo di toni cairoli Torni cairoli Quasi si dicevo toni montana E' sociale stelle Colpa tua gay C'è un zeme al tt arrangi Dai dice in modo che andiamo a fare un giro Eh dove va la moto? Dove sei tu? Dai steward Ma che casco Hai anche te le stelle Si ma fa culo Eh beh invece scappiacermi in moto Oh cio 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 Vai 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 Veloce cicatta cicatta Porca merda No che culo Per un pelo non ci ha cattato Cosa spari così a caso Ah ma è la AK47mini vero? Si Tanta roba Che bello Si Adesso un socio Veccio l'elicottero Adesso che lo scu Chi ci spara? Lo pigliamo l'elicottero Chi ci sta sparando non capisco C'è bucata la gomma C'è bucata la gomma Sembriamo due magret Con la gomma bucata Ma chi cazzo è che ci lancia i razzi? Ma può senza Veccio ma sembra di guidare una mini moto Perché sei caduto? Oh ma perché sei caduto? Ma c'hai sparato Dai veccio dove sei? Sei tutto in casco adesso Ma dai figa Se non è qua in fondo io No c'è la pura ancora Veccio Sono un merda Io non ho stelle Davvero? Sì Sei un pezzo di merda Io ce le ho invece Sono tutti qua Veccio ma c'è il culato da moto? io prendo l'elicottero io prendo l'elicottero mi cattano e mi spariscono le cose ma te non sei morto no sono ancora vivo io si mi ha sparato direggi un pugno che è che ti è ammazzato ho visto ma dai ma per me c'è uno col cecchino mamma mia gli auguro che la pula lo ammazzi giuro io sto andando a prendere l'elicottero invece dobbiamo prendere con l'elicottero oh che mi sparo ancora madonna santa ma porco dio figa ci fanno responare in cura delle sorelle è qua in fondo ancora ma è il tipo là sopra con lo zeme è il tipo là sopra io vado a prendere l'elicottero l'elicottero aereo vecio l'elicottero dai corri 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 su 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 ma guarda io mi prenderò anche questo ma che cojoni che bombarda questo qua porco dio dai me l'ha fatto esplodere mi ha fatto esplodere l'elicottero si mi ha sparato l'ho ucciso aspetta pronto pronto proprio adesso mi deve chiamare va bene sempre lui aspetta eh dimmi eh dimmi ah eh cosa ha detto eh dimmi che cos'ha dai basta spararmi guardalo oh che pollo eh in pratica che cos'è sì che è il dshot che mi ha fatto giù fantasma è verità fantasma what the fuck eh ti ha cecchinato pensavo anche su lui va magari non mi vedo in più va bene ciao 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 oh vecchio allora allora sono 60 minuti c'è la quale l'elicottero mi hanno ammazzato 40 volte mi hanno ammazzato ma io l'ho ucciso una volta l'ho ucciso dopo nel momento in cui l'ho ucciso mi sono andato al telefono ho dovuto andare a rispondere ma io ho tirato la modalità fantasma mi hanno ammazzato no no ma sei vecchio che io sono qua l'elicottero adesso lo prendo a pugni dimmi dove sei che non posso prenderla pugni su zeme oh dove sei vedi l'elicottero in giro sì sì lo vedo vedo io porco ma è lì che c'è c'è razzi io ho messo la modetta fantasma lui non mi viene più come è fatto a metterla r1 quando muori porca puttana di ecco adesso che sei morto premi r1 che ti attiva la modalità fantasma contro play code qua a me non mi fa niente a me non mi fa niente a me non mi fa niente a me guarda sono qua in parte a lui non mi fa niente uccidilo no non posso ho una modetta fantasma lui lui non può uccidere a me io non posso uccidere lui ma allora non ha senso almeno non ti rompe il cazzo ma cazzo beh ciò veniamo a prendere l'elicottero eh sì se lo facciamo lo prendi lì eri lì mi ha fatto esplodere due volte con il suo elicottero eh lo riprendevi eh certo ma è morto ancora oh ma ha rotto cazzo chi è questo ancora lui r1 modalità fantasma non ti rompe più il cazzo porco odio ma che coglione mi hanno finito anche i colpi vai vai finchè adesso trovo un'auto vado a cercarlo due locati sotto aspettami ignaro aspettami deve stare bene in mano che io se corre stupirla dai dov'è che ha qual figlio mi ha rotto il cazzo troppo a volte hai trovato nel culo il dito lì mi dice lo vedi è una qua è catano sotto catano sotto questo qua madonna l'abbiamo ammazzato però abbiamo ammazzato penso di sì 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 l'abbiamo ammazzato credimi sto zeme sta prendendo a prendere di colpo il cardboard distruggilo aspetta un'auto vada qua vada qua eh vabbè ti pare che mica tan sotto no dai ancora mi cazzo mi cazzo fai mi cazzo mi cazzo figa ma ha rotto il cazzo quel tipo di porca puttana qua sull'online che cazzo vanno tutti è morto uno sheriff dai scendi porca puttana ma ha rotto i coglioni però non si riesce a giocare così non c'è vado per attivare la voce al tipo oh oh necro anche che tipo figa come faccio ovvero 12.000 come fanno andarmi sui soldi così a cazzo vabbè madonna mi ha tracciato via la testa bello vabbè dai la puntata può finire qua madonna ecco sono morto grazie un saluto un like un commento iscrivetevi al canale bella ciao 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 Grazie a tutti